Siamo in compagnia di Giancarlo Sandrin, Country Head per l'Italia di Legal & General Investment Management. Questa è la prima conferenza stampa che questa società realizza qui in Italia. Che valore ha per voi? Per noi è importante essere presenti in Italia perché è un simbolo di quello che è lo sviluppo del mercato europeo. Vediamo che in Italia c'è un trend di crescita molto forte sul settore dell'asset management ed in particolare su quello degli ETF. Basta pensare che comunque anche l'anno scorso la crescita degli ETF nel mercato italiano è stata di circa l'11% come flussi rispetto a una media europea di circa 6%. Quindi sicuramente è ancora un mercato molto frizzante. E per noi essere presenti con una nuova offerta di ETF che poi verrà accompagnata anche da ulteriori fondi attivi e da fondi passivi è fondamentale. Quali sono le caratteristiche e eventualmente il plus di questa società rispetto già a un mercato italiano in cui ci sono diversi player? Un legal in general innanzitutto è una società che è presente sul mercato già da diversi anni. È uno dei maggiori player europei e globali con 1300 miliardi di dollari in gestione. Basta anche pensare che in Europa in realtà legal in general è il primo gestore di prodotti a indice. Siamo stati sempre un asset manager che era focalizzato sulla componente istituzionale, quindi sulla clientela istituzionale. Adesso stiamo offrendo queste capabilities che erano riservate agli istituzionali anche al mercato wholesale e retail. E questo per noi è sicuramente un punto di forza. In un mercato come quello attuale dove Mifid richiede competenze e anche se vogliamo costi più in linea con una normativa più trasparente e un po' più ridotto anche come costi, per noi è importante essere presenti con la nostra offerta. Ecco, a proposito degli ETF, voi lanciate nuovi exchange traded funds. Quali sono le caratteristiche di questi prodotti? Beh, abbiamo visto che con il crescere degli investimenti indicizzati sono aumentati anche alcuni dei rischi associati a questa tipologia di investimenti. In particolare il fatto che tutti cerchino di ribilanciare questi indici nello stesso periodo. Quindi utilizzando i principali benchmark abbiamo notato che c'è un aumento molto forte delle negoziazioni in prossimità di questi ribilanciamenti. Questo può creare un problema, un rischio per gli investitori. Quindi abbiamo creato un indice che va a ribilanciare in maniera differente rispetto ai classici benchmark e quindi in momenti in cui non ci sono queste problematiche di crowded trade. Gli altri due aspetti che abbiamo voluto portare avanti sono quelli legati alla sostenibilità. Il primo è legato all'esclusione di alcune società che possano porre dei rischi a lungo termine di sostenibilità agli investitori. E il secondo aspetto invece è quello che chiamiamo della stewardship, dell'active engagement, cioè dell'essere attivi in assemblea. Quindi noi in assemblea portiamo il nostro voto e parliamo anche con il management delle società per far sì che possano aumentare gli standard delle società stesse. In pratica non vogliamo essere degli investitori passivi negli indici, vogliamo essere attivi nel senso che vogliamo cercare di migliorare quelli che sono gli indici attuali. Assolutamente, la tematica ISG sappiamo che è anche particolarmente forte in questo periodo. Grazie mille. Grazie a voi.